I demoni conoscono la verità, ma tremano di fronte alla verità, conoscono Dio, ma ne hanno orrore. Questa non è la rivelazione che serve. Serve una capacità, una volta conosciuta la verità, di adeguarsi a essa, di investire su di essa, di lavorare in funzione di questo futuro. E questa capacità di guardare nel futuro l'abbiamo anche spesso associata, come ricordate, al vero significato della fede. Cioè ci vuole una capacità di rischiare, di scommettere, quindi il coraggio deve sposarsi con la conoscenza e con la scienza, che è appunto tipico dell'atteggiamento di fede dell'uomo biblico. Quindi l'uomo biblico non è un fondamentalista che si butta sulla rivelazione e confida in Dio e basta. Il profeta biblio in questo caso, ma anche il buon governante, è colui che apprende questa verità e poi agisce di conseguenza. E agisce saggiamente, agisce con sapienza. E bella a tutti dal prof! Ma voi mi direte, quando è che leggiamo la Bibbia? Appunto, leggiamola, prendiamo magari oggi proprio il testo della Scei per cambiare un po'. Anche se non ho mai abbandonato questo testo, che purtroppo mi hanno detto che è diventato introvabile, e non so come rinitiare a questo problema, se non altro sperando in una ristampa. Chiamati Motio, andiamo sull'Antico Testamento, e andiamo a Pentateuco, e andiamo a Genesi. Abbiamo di nuovo Giuseppe che interpreta i sogni. Oggi leggiamo il testo, diciamo qualcosa, poi magari continuiamo la prossima. Un breve riassunto della puntata precedente. precedente, ricordate come Giuseppe si è ritrovato in carcere per via della falsa accusa di tentato stupro, mossa proprio dalla moglie del suo padrone potifarra. Nonostante questo, Giuseppe mostra anche in carcere tutte le sue capacità, nelle pubbliche relazioni, ma soprattutto nell'organizzazione, nel saper tenere i conti, nell'assumersi responsabilità. Insomma, tutti vogliono Giuseppe per le sue qualità. Giuseppe è una persona intelligente, è una persona misurata, che soprattutto ha questo grande dono così prezioso nella Bibbia che è la sapienza nel governare. Quindi tutti quanti mettono Giuseppe al capo delle loro cose, insomma. Ecco, il loro assistente personale preferito. Questo non migliora di fatto la sua situazione personale, però migliora certamente il suo rapporto con gli altri. Tanto da acquistare, appunto, autorità nella prigione stessa. Incontra in prigione questi due personaggi, due dignitari importanti della corte. Abbiamo visto il coppiere e il panettiere, che in realtà, insomma, non sono dei semplici artigiani, sono persone che hanno una grande responsabilità, perché sia l'uno che l'altro non avevano soltanto mansioni alimentari, ma anche, di fatto, mansioni religiose. Di tutto l'aspetto, appunto, diciamo, di approvvigionamento, di manutenzione del cibo, dell'igiene, insomma, della casa, soprattutto anche le responsabilità sulla vita e sulla salute stessa del re, perché tutto ciò che mangiava e beva doveva passare attraverso il loro controllo. Ma anche una funzione religiosa, perché sia il coppiere che il panettiere avevano, appunto, anche un ruolo di fatto di grande autorità in questo senso. Quindi si tratta di persone di primissimo piano, vicinissime al faraone, intime. Uno dei due viene condannato di fatto, non sappiamo quale sia il motivo dell'accusa, ma, insomma, come succede spesso, insomma, alla corte di potenti, qualcuno viene accusato, a volte è vero, a volte non è vero. Di fatto, uno ci rimette la testa e l'altro no. Però, diciamo, l'antefatto è che tutti e due fanno un sogno che Giuseppe è in grado di interpretare e che puntualmente sia vera. Quando, però, uno dei due viene riabilitato, si crea, diciamo, una tensione drammatica, una tensione d'attesa, perché, nonostante sia tornato alla corte del faraone, sembra non essere cambiato nulla, perché, di fatto, il coppiere si è completamente dimenticato di Giuseppe. Ma la providenza continua a lavorare e, appunto, nel capitolo 40 ci racconta un evento che metterà in moto una catena di altri eventi successivi che porteranno Giuseppe a diventare la persona più potente del paese che l'aveva ospitato come schiavo. Come aveva detto Giuseppe, ci fu carestia in ogni paese, ma in tutta la terra d'Egitto c'era il pane. Poi anche tutta la terra d'Egitto cominciò a sentire la fame e il popolo gridò al faraone per avere il pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani, andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà. La carestia imperversava su tutta la terra. Allora Giuseppe aprì tutti i depositi in cui vi era grano e lo vendetti agli egiziani. La carestia si aggravava in Egitto, ma da ogni paese venivano in Egitto per acquistare grano da Giuseppe, perché la carestia infieriva su tutta la terra. Una bellissima pagina, una pagina davvero straordinaria di letteratura antica, oltre che essere una delle pagine più belle della Bibbia, non tanto per la sua attenzione drammatica, ma proprio per tutta la sua avarenza simbolica. E anche per il modo in cui avete visto, vengono trattati argomenti importanti, temi fondamentali come la sopravvivenza, il potere, le relazioni, la responsabilità, il problema anche dell'affermarsi, della ragione, dell'intelligenza sopra ogni altra capacità. Il prevalere appunto della sapienza del governare, che è un dono che insomma sembra essere particolarmente dato con generosità a chi ama Dio, ecco secondo la Bibbia. Tra l'altro questa pagina è bella anche perché fa innumerevoli richiami ad altre pagine della Bibbia. In realtà, le pagine della Bibbia che hanno risonanza con questo testo, non bisogna sempre pensare a un rapporto di causa-effetto, o una specie di copia reciproca. Si tratta più che altro proprio di un mondo, di una prospettiva culturale, di un immaginario condiviso, di un modo di raccontare, impresso, in immagini, in formule, che è radicato insomma proprio negli autori biblici e che quindi ne influisce anche sul loro stile. Pensate per esempio alla parentela stretta che questa pagina ha con la storia del profeta Daniele. È inevitabile insomma che queste due storie siano collegate. Come vi ho detto altre volte, è probabile che i testi di Genesi siano fra i testi anche più tardi della scrittura fra i vari libri della Bibbia. E nel libro di Daniele, che è in parte in ebraico, in parte in aramaico, poi esiste tutta una sezione anche in greco, quindi è un libro molto importante proprio per la sua ricchezza lessicale, per il suo essere stato appunto rimaneggiato, per avere tante fonti diverse, è un libro fondamentale per la rivelazione biblica e per la spiritualità ebraica. Ecco, il personaggio di Daniele è per molti versi simmedrico al personaggio di Giuseppe. Daniele è un esule, appartiene diciamo a questa casta intellettuale che è stata appunto rapita e portata in Babilonia. Lì parliamo di Babilonia, non dell'Egitto, ma la situazione è analoga. E Daniele insieme ad altri giovani viene scelto, selezionato, per essere appunto tra le persone che servono in re, nella corte, dove appunto c'era bisogno di, non soltanto di servitori, insomma di luci da scarpe, no? I potenti si circondano anche di intelligenza. Oggi parliamo tanto di intelligenza artificiale al servizio di tutti, quella che potenzia le nostre conoscenze, le nostre capacità, almeno insomma promette di farlo, ma il potente non ha bisogno di accrescere la sua intelligenza. Quindi si circonda sempre di saggi, di sapienti, di intellettuali, di esperti. Oggi li chiameremo gli esperti. Maghi, indovini, oggi diremmo appunto scienziati, diremmo tecnici, no? I famosi tecnici. Che ogni tanto appunto salgono al governo, che sono quelli che non soltanto identificano il problema, ma offrono anche soluzioni per superare un problema. Quindi non sono quelli che appunto fanno dichiarazioni di principio o promesse elettorali, sono quelli che sono chiamati da chi fa di solito promesse elettorali a risolvere i problemi di fatto, cioè a studiare appunto questioni molto complicate per portarle a termine. Allora diciamo che il farone in un certo senso, in questa circostanza, vede non soltanto le capacità, diciamo, non naturali di Giuseppe, perché questa sua capacità di leggere i sogni è enfatizzata dal testo che non si tratta di un dono naturale. Cioè non è semplicemente un Freud antelittera, ma questo Giuseppe. In realtà il suo dono è direttamente collegato alla sua capacità di avere da Dio la chiave di interpretazione del testo. Quindi non è tanto il sogno in sé, ma è la chiave di interpretazione del sogno che viene da Dio attraverso Giuseppe e che dà forza e consistenza alla verità del sogno. E questo è confermato anche dal fatto, insomma, che tutti gli altri indovini, tutti gli altri tecnici a disposizione del re, non riescono a intendere il sogno. Ora, il sogno di per sé non sembra così difficile da interpretare, proprio per questo il testo mette enfasi sull'incapacità, diciamo, dell'elite di corte del re di interpretare il sogno rispetto alla capacità di Giuseppe. Stessa cosa avveniva con Daniele alla corte del re Nabucodonosor. Se non ricordate, andatevi a ripassare le leggi di Daniele. Questo è il bello della letteratura biblica, questo è il bello delle pagine della Bibbia, che una pagina può illuminare l'altra. E ricordiamolo, poi questo vuol dire la rivelazione del testo nella singola pagina, nel singolo capitolo, nel singolo versetto, ma è quella pagina, quel versetto, eccetera, eccetera, riletto nell'insieme, nel contesto di questa rivelazione, che non prescinde anche, soprattutto, per noi credenti cristiani, dalla rivelazione nel Nuovo Testamento. Questa è l'interpretazione teologica. Intanto, per l'esegesi, cioè per cercare di capire il senso del testo, quindi prima della teologia, al servizio eventualmente della teologia, c'è questa evidente somiglianza, dove di nuovo vediamo il profeta Daniele, che è profeta proprio perché, al pari di Giuseppe, riceve la capacità di interpretare i sogni e di leggere, in questo senso, il futuro. Però questa lettura del futuro è ben radicata nel presente del sogno, nel problema che questo sogno solleva, perché nel caso di Nabucodonos, ricordate il famoso sogno della statua, dai piedi d'argilla, questo sogno anticipava e rendeva evidente un problema, cioè c'è una fragilità interna a questa realtà, a questo governo. Comunque lì la capacità di Daniele di leggere i sogni era anche accompagnata, la sua capacità di governare, che poi suscetava l'invidia degli altri. Anche Daniele, in qualche modo in maniera analoga a quanto accapitava con Giuseppe, ne vive appunto buttato in prigione, addirittura insomma minacciato dai famosi leoni, e anche lì insomma c'è tutta una dinamica che per certi versi somiglia, ha delle somiglianze, ci sono ovviamente anche delle differenze con il racconto di Giuseppe. Ma al centro, vedete, c'è un'idea a cui avevamo già accennato, cioè l'idea della potenza della sapienza come capacità di governare. Anche questa capacità di governare, come vedete, viene da Dio, e questo rispecchia una convinzione profonda dell'uomo antico, che appunto in alcune culture associava persino chi comandava con la divinità, con almeno una forma, una qualche forma di divinità, non Dio vero e proprio come lo intendiamo noi oggi, ma il governante di turno, il re, il faraone, eccetera, in qualche modo era appunto rappresentante di questa divinità assoluta. E in un certo senso, questo viene confermato da questo sogno, questo principio, perché il faraone riceve di fatto una rivelazione divina, una rivelazione però che viene appunto confermata e enfatizzata dalla risposta di Giuseppe, e anche dalla modalità stessa del sogno, abbiamo visto che si ripete due volte, è una specie di amen amen, una ripetizione, un'enfasi sulla stessa rivelazione. E questo conferma anche la cultura egiziana d'origine che appunto mette il faraone molto vicino in qualche modo alla divinità. Allora, quindi abbiamo il tema della sapienza, della rivelazione divina, abbiamo il tema del sogno come rivelazione della divinità, abbiamo il tema della capacità appunto del profeta di saper interpretare questa rivelazione e di agire di conseguenza. Perché, e questo è molto interessante, ogni rivelazione, e soprattutto nel caso di questa pagina, ha un'implicazione pratica. Cioè ogni informazione richiede poi un'azione. Perché si viene informati sulla realtà, su una realtà che si muove dinamica, quindi abbiamo mutamento, sette anni di abbondanza, sette anni di carestia. Le vacche magre, le vacche grasse, le vacche magre, le spighe ricogliose, le spighe carnivore, le spighe cannibali. Questa dinamica, questo movimento, richiede un adattamento. Quindi è un'informazione che richiede un adattamento. E l'adattamento richiede intelligenza, richiede la capacità di adeguarsi a questa realtà che si muove. E questo adeguamento richiede un movimento, richiede uno sforzo, richiede un apprendimento, richiede un'organizzazione. E perciò, appunto, richiede energia, forza, e soprattutto, però, una forza ben indirizzata, una capacità di intervenire sulla realtà. Quindi ogni rivelazione non è semplicemente in funzione della comunicazione di una verità astratta, come spesso pensiamo. Nella Bibbia ogni rivelazione ha anche un effetto sulla propria responsabilità. Insomma, è fondamentale non solo sapere la verità, ma che cosa farci con questa verità. Qui torniamo un po' all'intuizione, se volete, di Giacomo, no? Cioè, i demoni conoscono la verità, ma tremano di fronte alla verità. Conoscono Dio, no? Ma ne hanno orrore. Questa non è la rivelazione che serve, no? Serve una capacità di, una volta conosciuta la verità, di adeguarsi a essa, no? Di investire su di essa, di lavorare in funzione di questo futuro, no? E questa capacità di guardare nel futuro l'abbiamo anche spesso associata, come ricordate, al vero significato della fede. Cioè, ci vuole una capacità di rischiare, di scommettere, associata però a una capacità di organizzarsi e quindi di riflettere. Quindi il coraggio deve sposarsi con la conoscenza e con la scienza che è, appunto, tipico dell'atteggiamento di fede dell'uomo biblico. Quindi l'uomo biblico non è un fondamentalista che si butta sulla rivelazione e confida in Dio e basta. L'uomo biblico, il profeta biblico in questo caso, ma anche il buon governante, è colui che apprende questa verità e poi agisce di conseguenza e agisce saggiamente, agisce con sapienza, perché poi non agisce soltanto per se stesso, ma agisce anche per gli altri. E qui si apre un'altra cosa fondamentale sulla quale voglio porgere, appunto, attirare la vostra attenzione. Giuseppe, pur avendo in sé questa sua devozione per il Dio di suo padre, Giacobbe, appunto, il Dio di Israele, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non si presenta alla corte del faraone con colui che pretende di essere lui la soluzione a tutti i problemi, anche se poi di fatto lo è, no, anche se poi di fatto lo è, ma è come se lo lasciassi dire al faraone stesso, cioè offre al faraone una possibilità e una soluzione. E il faraone la coglie, coglie questa possibilità di salvezza. Quindi, in un certo senso, si può dire che il faraone crede in Giuseppe, ha fiducia in Giuseppe, è convinto dalle parole di Giuseppe. E questa è una riflessione importante, anche perché, come abbiamo visto, è uno schema che abbiamo visto già in Daniele. Esiste tra l'esiliato e, diciamo, l'ospite, cioè colui che ospita, tra l'ebreo e lo straniero, nello schema biblico, tra lo schiavo e il padrone, sicuramente una distanza, una differenza, un'ostilità. Ma c'è anche una disponibilità, una disponibilità reciproca, cioè abbiamo da una parte l'ebreo che ha il suo dio, l'altro è un pagano, un diversamente credente, ha un'altra origine, ha altre radici, ha magari valori diversi, crede in altre cose, è di un'altra nazione, parla un'altra lingua, quindi ci sono infinità di diversità. C'è una differenza di potere, però c'è una disponibilità, cioè, c'è da una parte, appunto, il faraone che cerca soluzioni, che ha problemi, ha problemi interiori, nati dal sogno, ha problemi, perché ha responsabilità verso il suo popolo, quindi ha problemi rispetto al significato della sua esistenza in rapporto al popolo che deve servire. Qui il faraone è rappresentato per quello che è, cioè, appunto, il governatore del suo popolo, non è rappresentato come un cattivo di un cartone animato, è rappresentato nel suo essere re, quindi nel suo essere a capo di popoli, di essere responsabile della vita dei suoi, oggi diremmo, cittadini, allora si potrebbe dire sudditi, ma della sua gente, forse è questo ancora meglio, è ancora più importante da sottolineare. Quindi ha un problema. Che cosa fa Giuseppe? Non è che va lì e dice, vabbè, tu sei pagano, tu sei, dovresti ascoltare il Dio di Israele. Non c'è questo, questo conflitto. Giuseppe si mette al servizio del faraone, cioè, offre la sua, il suo privilegio di essere in comunione con Dio, il suo privilegio di essere, forse qui ho usato il termine di comunione con Dio, in un rapporto privilegiato con Dio che gli dà la capacità, dà a lui delle capacità che altri non dà e soprattutto quello di leggere la realtà in relazione a Dio e quindi di anticiparne i significati di questa realtà, quindi di leggerla in maniera più profonda. Questo gli dà il rapporto privilegiato di Giuseppe con Dio e la sua capacità di fatto di leggere, si manifesta nella sua capacità di leggere la realtà in modo più profondo. Quindi c'è un bisogno da parte del faraone, un bisogno di sopravvivenza, un bisogno di saper governare, un bisogno interiore di avere risposte perché solo il faraone non dorme bene dopo aver fatto questo sogno, è un incubo, no? Dall'altra parte c'è la capacità di Giuseppe. Giuseppe mette a disposizione la sua capacità al farone, non entra in polemiche del farone, dice, voi brutti schiavisti che mi avete anche accusato ingiustamente, mi avete impringito ingiustamente, avrebbe potuto sollevare mille obiezioni che mi chiamate a fare, poteva arrabbiarsi anche col coppiere, mannaggia a te che ti sei dimenticato, poteva subito far polemiche, entrare in conflitto, forse ne aveva anche i motivi per farlo. No, Giuseppe si mette al servizio del farone, gli risolve il problema, gli propone una via d'uscita, cioè non solo gli interpreta il sogno che era la sua prima angoscia, non avere nessuno capace di dare un significato a questa sua esperienza, i suoi non gli bastavano, ci è voluto Giuseppe, ma Giuseppe non colpisce il faraone soltanto con la sua capacità di interpretare, ma anche con la sua capacità di governare, dice subito, dà subito un consiglio pratico, signori, sono sette anni di abbondanza, è una cosa che dobbiamo fare e nel dettaglio spiega il piano, la soluzione alla via d'uscita, cioè non soltanto rivendica, vedi che c'ho ragione io, ma tu che ce fai con i tuoi dei? Non entra in questo tipo di rapporto, semplicemente dice e poi presenta una soluzione e neanche gli viene chiesta, non è che farò e gli dice tu che ne pensi, come vuoi risolvere? Giuseppe offre la sua soluzione e la soluzione è talmente convincente che conquista tutti, perché? Perché non è una soluzione che non tiene conto del bene di tutta questa nazione, Giuseppe non fa un discorso egoista, non fa un discorso tribale per i suoi, a parte che in questo momento i suoi sono belli lontani e lo hanno anche rifiutato, non fa neanche un discorso individuale, non dice io ti dico questo e tu cosa mi dai, semplicemente mette a disposizione la sua sapienza e la sua saggezza. Ora, qui c'è una profonda c'è una profonda sapienza biblica, perché purtroppo l'impressione è che questo non sia l'atteggiamento dei credenti di oggi, almeno di molti. I credenti oggi si sentono attaccati, si sentono circondati, si sentono gli schiavi nella terra d'Egitto e forse in parte è anche vero, siamo pellegrini su questa terra, siamo, che ne so, una minoranza perseguitata, possiamo anche dirlo, no, i credenti, magari da vedere su internet, ci prendono in giro continuamente, a volte anche, voglio dire, avendo in mente certi tipi di canali religiosi, mi viene anche da dire ha ragione, perché a volte sento dire delle stupitaggini da sotterrarsi e quindi, insomma, se ci attaccano fanno anche bene, ma il problema è questo, perché devi sentirti sempre ostile in guerra? Allora, se noi abbiamo davvero il dono di una relazione privilegiata con Dio, mettiamo a disposizione del mondo questa nostra capacità di leggere la realtà con più profondità, mettiamo la nostra sapienza, la nostra carità, la nostra bontà, la nostra capacità di costruire comunità, di stare insieme, la nostra capacità di offrire valori, anziché metterci in conflitto. Guardate che i cristiani sono stati al potere per tanto tempo con tutti i limiti, con tutte le cose sbagliate che hanno fatto, proprio perché a un certo momento offrivano soluzioni al mondo, magari soluzioni temporanee che oggi non funzionano più, oggi abbiamo bisogno di soluzioni nuove alle angosce dell'uomo di oggi. Cerchiamo di collaborare con l'uomo di oggi, col tormento di oggi, cerchiamo di offrire, se siamo capaci di farlo, poi magari Dio, come dice giustamente il Vangelo, Dio tira fuori i figli di Abramo anche dalle pietre, quindi insomma non dobbiamo sentirci neanche in questo senso dei privilegiati, ma comunque la Bibbia ci ricorda che il nostro atteggiamento non deve essere quello della crociata permanente contro tutto e tutti, deve essere quello della carità e del servizio, perché se abbiamo ricevuto dei doni dobbiamo mettere le disposizioni di tutti e questa è sapienza, è sapienza perché anche è saper vivere, è saper vivere, è saper, diciamo, essere parte, sentirsi parte di una società, di una, sentirsi corresponsabili del mondo in cui si vive, perché è vero che gli ebrei in Babilonia e gli ebrei in Egitto sono stati rotti schiavi, perseguitati e quindi sentiamo spesso echeggiare in altre pagine della Bibbia anche se volete questo rancore verso chi li aveva sconfitti e deportati, però gli ebrei in esilio hanno costruito le loro vite, hanno collaborato con il loro mondo, hanno imparato da quel mondo che li circondava, l'hanno reso più ricco, hanno dato qualcosa e hanno continuato a farlo anche dopo che molti ebrei sono tornati nella loro terra promessa e quindi la Bibbia ci ricorda questo, noi credenti di ogni tempo che ci sentiamo a volte un pesce fuor d'acqua appunto come esuli fuori dal mondo anche se siamo di questo mondo consiglio di rileggere la famosa di Dachè che è uno dei testi più antichi forse un giorno ne parleremo del canale che affronta proprio questo argomento il rapporto tra il credente e il mondo antico e la soluzione non è quella di tirarsene fuori di odiarlo e detestarlo ma la soluzione reale è quella di offrire proprio il meglio che viene dalla propria identità e perché soltanto così ci può essere salvezza per tutti perché Giuseppe come vedremo salva prima l'Egitto e poi salverà anche tutta la sua stirpe poi succederanno altre cose poi le cose prenderanno una piega diversa una piega più conflittuale ma questo è un altro racconto un'altra storia la storia dell'Esono ma certamente qui vediamo un Giuseppe che conquista appunto il potere in Egitto perché ne conquista il cuore ne conquista le speranze mostra il suo essere premuroso verso la vita di questo di questo popolo e quindi diventa diventa potente insomma acquista potere nella realtà chi si mette al servizio chi si mette al servizio quindi servire è il vero significato della politica e la capacità di risolvere problemi e servire gli altri è appunto la soluzione della vera scelta di chi dovrebbe governare ma questo è un altro capitolo e approfondiremo questo testo un'altra volta grazie a tutti Grazie.